Il format Eccellenze nasce appunto nel 2008, tanti anni, abbiamo portato il brand in Europa, a Monte Carlo, a Barcellona, a Parigi, a Londra e da qualche tempo stiamo facendo dei progetti di incoming, come qua a San Giuseppe Vesuviano, una serie di attività di marketing territoriale che hanno convolto più di 15.000 persone, fra buyer e addetti ai lavori, e che termina oggi col concorso per le scuole. Il mio territorio, le nostre risorse, abbiamo coinvolto le scuole di San Giuseppe Vesuviano e abbiamo chiesto ai ragazzi di improvvisarsi i giornalisti, raccontare le loro eccellenze, anche quelle più nascoste.